Questa persona è speciale, una persona a cui devo tutto, una persona che è davvero importante. Lei è la mia ragazza, magica, unica, semplice, dolce, simpatica e comprensiva. Passiamo sempre gran parte del weekend stando al telefono, perché stare senza parlare per noi è molto difficile. Non ci stacchiamo mai e questa cosa mi fa piacere. A volte è un po' gelosa, ma non è un problema, anche io lo sono, ma forse più di lei. Ah ah, su questo non ci si scherza, però mi fa stare così bene e mi fa sentire diversa. Forse non tanto? No, sto scherzando ovviamente. Lei mi ha aiutata a superare tutti gli ostacoli che ho amato. Nel senso, la maggior parte delle volte è sempre riuscita a distrarmi in qualche modo. La sua voce è così dolce, la sua voce è così unica. E mi prende, mi prende, mi prende e mi prende. Non so come ringraziarli. E' davvero strano provare queste sensazioni, perché sono così forti. Gli fanno venire le farfalle allo stomaco, ti fa sentire felice. Scopri chi sei. Scopri una parte di te che non hai mai scoperto prima d'ora. E' così bello scoprire la parte di te che non hai mai scoperto. Quando parlo con lei, io sorrido già e non mi deprimo per niente. E' così bello scoperto prima di te che non hai 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 scoperto prima di te che non hai